Ciao a tutti ragazzi, come vedete un video molto diverso da quelli che pubblico di solito perché si tratta della recensione di un libro. Non sono impazzita, semplicemente partecipo a un'iniziativa di Shanty Lives che ha appunto creato questo gruppo di lettura tramite il suo gruppo di Facebook e appunto ho deciso di partecipare anch'io facendo questo video. Prima di tutto vorrei partire da un presupposto, ovvero io non sono una che legge molto, anzi sono molto selettiva sui libri e se un libro non mi cattura più di tanto almeno dalla copertina o comunque magari leggendo la quarta di copertina eccetera non lo leggo, non sono portata a leggerlo e difficilmente mi spingo fuori dai generi che di solito mi piacciono. Per cui questa iniziativa è un po' una sfida con me stessa, tra virgolette, obbligarmi a leggere dei libri anche se non sono parte dei miei generi preferiti. Per questo mese di Atrile il libro da leggere era The Program di Susan Young. Relativamente appunto a quello che ho detto prima devo ammettere che avevo alcuni pregiudizi rispetto a questo libro nel senso che è molto lontano da quello che leggerei io di solito. Ma appunto ho fatto questo sforzo, ho accettato la sfida e ho trovato il libro e per aggiungere un livello di difficoltà in più l'ho letto anche in inglese perché ovviamente io probabilmente sì sono pazza. Non voglio spoilerare a chi non ha letto la trama quindi vi dico un pochino in breve l'ambientazione in modo tale da farvi capire con che tipo di storia abbiamo a che fare. Questo libro ci porta in un ipotetico futuro, per quanto mi riguarda è un ipotetico futuro, probabilmente nemmeno molto distante dal nostro presente, in cui tra gli adolescenti dilaga un'epidemia di depressione che porta molto spesso al suicidio. Il modo che gli adulti hanno trovato per arginare questa epidemia è il programma che prevede che gli adolescenti infetti vengano ricoverati in delle strutture particolari e vengono appunto sottoposti ad una sorta di lavaggio del cervello, durante il quale vengono rimossi tutti i ricordi che possono aver condotto alla depressione. In questo contesto conosciamo Sloan che è la protagonista principale che è anche appunto la narratrice e James che sono uniti da un amore molto intenso e che nel passato hanno visto morire molte delle persone più importanti della loro vita come per l'appunto il fratello di Sloan, Brady. I due protagonisti ma come loro anche tutti gli altri adolescenti che incontriamo si trovano a vivere nell'angoscia costante perché possono essere mandati nel programma in qualsiasi momento e questo porta loro a reprimere tutte le emozioni negative che possono provare, quindi a nascondere anche tutte le loro debolezze e soprattutto con i loro genitori non possono essere sinceri perché possono essere i primi a tradirli e quindi a chiamare le persone che lavorano per il programma e quindi farli internare. Sloan e James possono essere sinceri e veri soltanto tra di loro. Molto spesso durante la narrazione Sloan piange soltanto quando è con James o comunque soltanto o comunque quando è da sola. Se deve farlo in presenza dei genitori cerca di trovare una scusa diciamo e facendosi del male si mette a piangere. Non è sicuramente facile parlare del tema del suicidio in un libro soprattutto perché questo libro penso abbia come target appunto gli adolescenti e quindi diciamo io sono un po' fuori target per questo libro ma comunque sia l'ho apprezzato molto. Ma in ogni caso la scrittura è molto scorrevole vi dico e riesce, è riuscita ad immergervi immediatamente nella storia che è ricca di colpi, è molto scorrevole ed è ricca di colpi di scena e sorprese praticamente ad ogni capitolo. Io sono rimasta praticamente incollata al cellulare dove appunto leggevo il libro e veramente molto ben scritto e molto anche approfondito come tema. I due personaggi principali quello di Sloan e quello di James li ho trovati molto ben delineati come caratteristiche, come carattere. Ho anche molto apprezzato l'utilizzo dei flashback che ci fanno conoscere il passato dei personaggi. Diciamo che io ho visto il libro come un'esasperazione, non è forse il termine giusto ma intendetelo in senso positivo, dei problemi che si hanno durante l'adolescenza, questa incapacità di comunicare con gli adulti, il non fidarsi degli adulti. Per concludere vi lascio con il mio personale voto al libro che è un 8 su 10. Come vi ho già detto mi ha tenuto praticamente incollata allo schermo e l'ho letto anche molto velocemente nonostante fosse appunto in inglese. Mi è piaciuto, l'ho trovato appunto molto scorrevole, molto piacevole tra virgolette come lettura. L'unica pecca secondo me è il finale che è molto molto, forse anche troppo, decisamente troppo aperto almeno per i miei gusti, dovrebbe esserci anche un seguito presumo del libro quindi vedrò di recuperarlo eventualmente e diciamo che avrei fatto molto volentieri a meno anche dell'epilogo di cui non ho capito il senso. Detto questo io vi lascio in descrizione e magari anche sulla scheda che dovrebbe essere di qua o di qua penso, sono quasi sicura che sia di qua. Vi lascio il link al canale di Shanti, al suo video. Non so quale sia il prossimo libro da leggere ma ve lo metto, ve lo scrivo in descrizione per appunto il mese di maggio. Cercherò di leggerlo anche se non sarà molto semplice perché io a maggio praticamente sono in viaggio tutto il mese quindi non so se riuscirò a leggerlo e non so se ne almeno più che altro non so se avrò il tempo di registrare il video e caricarlo. In ogni caso vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social, magari seguitemi su Instagram e Facebook in modo tale da vedere cosa farò durante maggio e vi ricordo anche che se il video vi è piaciuto potete lasciare un like, potete condividerlo con gli altri vostri amici e potete anche magari lasciarmi un commento se volete qualche, se avete qualche curiosità in più o qualcosa da, qualche, qualche appunto, magari se voi avete capito l'epilogo potete spiegarlo anche a me. Vorrei lasciarvi con una frase che mi sono appuntata dal libro che è But who are we without our past, ovvero chi siamo senza il nostro passato? Grazie a tutti.